In questo tutorial vediamo delle disequazioni a coefficienti interi. Partiamo da questo primo esercizio. Come prima cosa deve effettuare questa moltiplicazione. Meno 3 per x ottengo meno 3x meno 3 per più 1 ottengo meno 3. Poi abbiamo più 5 minore uguale di 7 meno x. Ora a primo membro sommo meno 3 con più 5. Ricopio meno 3x meno 3 più 5 ottengo più 2 minore uguale di 7 meno x. Porto ora a primo membro meno x e porto a secondo membro più 2 e allora meno 3x. Portando meno x a primo membro devo cambiare segno e scrivo più x minore uguale di 7. 2 portato a secondo membro cambia segno e quindi scrivo meno 2. Meno 3x più x ottengo meno 2x minore uguale 7 meno 2 risulta essere pari a 5. Osservo ora che x risulta essere negativa. Allora moltiplico tutte e due membri per meno 1. Quando moltiplico tutte e due membri per meno 1 mi devo ricordare di cambiare verso e quindi scrivo 2x da minore uguale passo a maggiore uguale di meno 5. Divido ora tutte e due membri per 2. In questo modo semplifico il coefficiente della x. Ottengo come il risultato x maggiore uguale di meno 5 mezzi. Vediamo questo secondo esempio come prima cosa deve effettuare questa moltiplicazione. Ricopio 6x e meno 3 per x ottengo meno 3x. Poi meno 3 per più 1 ottengo meno 3 maggiore di 5 più 3x. Ora a primo membro sommo 6x con meno 3x ottenendo 3x e il resto lo vado a ricopiare. Osservo ora che ho 3x a primo membro e 3x a secondo membro. Allora li posso semplificare. Quello che resta è meno 3 maggiore di 5. Ottengo così una disuguaglianza che non dipende da x. Per risolverla devo chiedermi se meno 3 risulta essere maggiore di 5. Osservo che meno 3 non risulta essere maggiore di 5. Allora vuol dire che questa disuguaglianza non è mai verificata e quindi scrivo che la disuguaglianza risulta essere impossibile. Passiamo a questo terzo esempio come prima cosa devo effettuare questa moltiplicazione e questa moltiplicazione. 4 per x e scrivo 4x poi 4 per meno 1 ottengo meno 4 ed ora passo alla seconda moltiplicazione. Meno 2 per 5 ottengo meno 10. Meno 2 per meno 3x ottengo più 6x minore uguale di 6. Ora a primo membro sommo 4x con 6x ed ottengo 10x. Sommo poi meno 4 con meno 10 ottenendo meno 14 minore uguale di 6. Porto ora meno 14 a secondo membro e scrivo 10x minore uguale di 20. Divido ora tutte e due membri per 10. In questo modo semplifico il coefficiente del coefficiente della x. A secondo membro abbiamo 20 decimi. Semplificando si ottiene x minore uguale di 2. Passiamo a questo quarto esempio come prima cosa deve effettuare questa moltiplicazione. Meno 4 per 3x ottengo meno 12x. Meno 4 per meno 1 ottengo più 4. Poi più 8x maggiore di meno 4x. Sommo meno 12x con 8x. Meno 12 più 8 risulta essere pari a meno 4x. Poi più 4 maggiore di meno x. Porto ora meno x a primo membro e 4 a secondo membro. Meno 4x più x maggiore di meno 4. Sommo meno 4x. Sommo meno 4x con x ottenendo meno 3x maggiore di meno 4. Osservo ora che x risulta essere negativa. Allora devo moltiplicare tutte e due membri per meno 1. Quando moltiplico per meno 1 mi devo ricordare di cambiare verso. E allora scrivo 3x. Da maggiore passerò a minore e poi scrivo 4. Divido tutte e due membri per 3. In questo modo semplifico il coefficiente della x. Quello che ottengo è x minore di 4 terzi. Vediamo quest'ultimo esempio. Come prima cosa devo cambiare segno qui all'interno? Ricopio 7 meno 5x maggiore uguale 3x meno 2 più x. Porto ora 7 a secondo membro meno 5x maggiore uguale meno 7. Poi sommo 3x con x ottenendo più 4x meno 2. Porto ora 4x a primo membro meno 5x meno 5x meno 4x maggiore uguale meno 2. A primo membro sommo meno 5x con meno 4x ottenendo meno 9x meno 9x. Visto che la x è negativa devo moltiplicare tutte e due membri per meno 1 e ricordarmi di cambiare verso. E allora scrivo 9x minore uguale di 9. Divido ora tutte e due membri per 9. In questo modo semplifico il coefficiente della x. Ottengo così x minore uguale 9 diviso 9 è pari a 1. E con questo termino il tutorial su esempi di disequazioni lineari a coefficienti interi.